Musica Buonasera cari amici, bentrovati, nuovo appuntamento con Confagricoltura News. Ci avviciniamo all'evento Clufors dell'anno per Confagricoltura, ovvero il Food and Science Festival, arrivato alla sua terza edizione, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ne parliamo anche questa sera insieme al Presidente di Confagricoltura Alberto Cortesi. Buonasera Presidente. Buonasera. Allora ormai ci siamo, venerdì, sabato e domenica, questo grande evento nelle vie, nelle piazze del centro di Mantova, il tema sarà quello dei semi, dicevamo la settimana scorsa con il Direttore Sfulcini, oltre 200 eventi, oltre 100 ospiti, e allora cerchiamo di addentrarci un po', quali sono i filoni, quali sono gli eventi principali di questa grande tragiorni? Beh, direi che c'è grande aspettativa e non poteva essere così, visto il successo degli anni precedenti e quindi probabilmente anche un passaparola che c'è stato da chi ha partecipato. Quindi si parte, si parte con questo tema che io che sono agricoltore e noi come Confagricoltura che siamo i promotori è del tutto azzeccato e noi andiamo in profondità con questo tema. Parlare di semi significa guardare il futuro, significa sperare in un futuro migliore perché seminare vuol dire avere generazioni future che dovranno essere migliori di quelle precedenti. Tanti eventi, ci siamo detti 200 eventi, più di 100 partecipazioni, a tutti i livelli, per tutti, dai bambini più piccoli fino alle persone adulte che vogliono approfondire i temi. Potrei citare alcuni filoni principali, per esempio sulla sostenibilità dell'acqua, sull'uso dell'acqua. Con Singenta, il nostro partner, su questo evento e poi ancora con Banca Intesa si parlerà di agroenergie. Con TEA di nuovo di acqua e TEA fornirà un'acqua plastic free proprio in occasione del festival. E poi con S. Lunga parleremo del packaging e della sostenibilità perché la nuova frontiera del packaging è appunto questa, quella di essere sostenibile. Poi potrei andare avanti ancora. Gli eventi sono sul sito, sono tantissimi. Non posso naturalmente citarli tutti. È giusto anche non svelarli tutti, altrimenti togliamo un po' di curiosità. Non c'è dubbio. Ma poi, essendo così variegato, tutti troveranno un qualcosa di interesse. Un'altra cosa interessante che mi viene in mente è che proprio qui al festival troverà il battesimo una nuova associazione che si chiama SETTA, un'associazione di ricercatori, il cui argomento è proprio legato all'agricoltura. Questo è un po', beh, un ultimo evento che è giusto citare, è un evento più leggero ed è il sabato sera e con i The Producer ci sarà questo spettacolo. Bene, allora ringraziamo il Presidente Cortesi per averci raccontato un po' questo festival. Noi diamo appuntamento con Confagricoltura News alla prossima settimana e con voi a casa chi volesse partecipare venerdì, sabato e domenica terza edizione del Food and Science Festival. Arrivederci. Grazie a tutti.